Amiche e amici abbiamo detto prima qual è il modo migliore che iniziare questo viaggio nel mondo del wedding se non appunto con le macchine che poi ci accompagneranno al grande passo. Sono in compagnia di Gianfranco Ghisu, uno dei soci dell'azienda autonoleggio Ghisu che gentilmente prima mi ha concesso di salire su una Excalibur limousine degli anni 60. Ciao Gianfranco e benvenuto su HTO. Ciao a tutti buongiorno. Allora Gianfranco autonoleggio Ghisu quando nasce? Nasce 40 anni fa infatti quest'anno siamo qui in ferie stiamo festeggiando appunto il quarantesimo perché l'azienda nasce dall'idea di tre fratelli nel 1974 e così per gioco è nata questa attività cominciando da una macchina degli anni 30 una balilla e una due macchine ad oggi abbiamo una realtà che ci permette di divantare una flotta di circa 40 vetture. 40 vetture quindi da che età partono? Abbiamo auto che vanno dagli anni 30 sino agli anni moderni, abbiamo macchine degli anni 30 come Rover, Balilla, Triumph, poi abbiamo auto importanti come Benti appunto questa dove siamo seduti in questo momento che è una Benti Cup del 56, abbiamo anche delle Rolls degli anni 50 e poi macchine moderne come ecco Maggiolone negli anni 70 fino ad arrivare alle nuovissime Jaguar e Mercedes e Maserati. Allora io prima sono salita su un Excalibur Limousine degli anni 60 che mi hanno detto che è un pezzo unico. è una macchina rara in Italia e in realtà ce n'è una soltanto, è una macchina che è stata fatta fare apposta dalla nostra azienda, abbiamo incaricato un carrozziere di Boston su un'idea sempre di una macchina molto simile degli anni 30. Devo dire che è bellissima, sono davvero tutte belle però quella lì mi ha colpito in modo particolare e devo dire che è davvero eccezionale. Invece adesso vorrei chiederti quali sono le macchine che più richiedono soprattutto le spose perché immagino che siano più le spose insomma a favorire le macchine? Sicuramente come poi vedrai dalla nostra brochure questo è l'autonoleggio della sposa e su questo non c'è verso perché la macchina la sceglierà sempre e soltanto la sposa. Normalmente le auto più richieste sono le Rolls Royce e le Benti degli anni 50 infatti ne abbiamo circa una decina sia bianca grigia e nera non importa il colore però lo stile perché è proprio la classica macchina che uno si immagina quando pensa al matrimonio la sposa arriva con la Rolls e bianca quindi è l'auto più richiesta però insomma anche quella che hai visto fuori sì al suo fascio la richiedono poi col fatto che è una sola chi la prende prima sicuramente è certamente. Gianfranco invece per quanto riguarda i prezzi naturalmente non li vogliamo sapere più o meno insomma sono prezzi accessibili a tutti oppure dobbiamo pensare di? No no assolutamente sono prezzi molto accessibili la forbice è dai 300 fino ad arrivare a 800 euro e si ha tutto l'autista che arriva un'ora prima della cerimonia sotto casa della sposa così a disposizione da poter mettere eventuali addobbi e per farla vedere agli ospiti andiamo in chiesa rimaniamo a disposizione per fare il servizio fotografico e poi li portiamo al ristorante il servizio si conclude là. Voi siete di Roma possono usufruire di questo servizio solo gli sposi di Roma o anche di altre parti? Diciamo i costi che ti ho detto fanno fede a servizi su Roma e nel Lazio chiaramente poi ci spostiamo anche fuori per richieste particolari però i costi sono un pochino diversi perché c'è la trasferta. Allora prima io ho visto questo Deplian ma all'interno Deplian c'è anche una sorpresa per naturalmente chi ha voglia di sposarsi? Certamente c'è la sorpresa perché appunto vogliamo che i futuri sposi festeggino con noi i nostri 40 anni e ci sarà uno sconto riservato a tutti coloro che prenoteranno entro febbraio del 2014 uno sconto che va da 70 a 120 euro. Non è poco? Non è poco perché ecco appunto considerando una macchina che costa 500 euro si può avere uno sconto di 100 e il 20% non è male. Allora Gianfranco immagino che adesso tutte le nostre amiche abbiano la curiosità di sapere dove possono trovarvi e quindi come possono fare per contattarti? Molto semplice, anzitutto abbiamo un sito internet che è www.gisu-autonoleggio.com e noi ci troviamo in via Filippo Meda che è una traversa di via dei Monti di Burtini proprio di fronte all'uscita della metropolitana B e siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 13 il pomeriggio dalle 15 alle 19 e 30 e anche la domenica mattina. Grazie. Ci mancherebbe, grazie a te.